Come è il Signore? Fino ad allora avevo fatto molte scelte sbagliate, frequentavo amici che non mi portavano su strade molto belle, frequentavo posti non consoni, avevo un parlare che non era adeguato a una persona rispettabile. Però un giorno il Signore parlò al mio cuore, parlò al mio cuore e andò a toccare il punto che più doleva a me, nel senso che il mio pensiero era, io conoscevo il Signore, sapevo che poteva fare grandi cose, ma la mia preoccupazione era cosa avrei dovuto lasciare? Cosa avrei lasciato indietro di quello che mi apparteneva e della persona che ero? Non sapevo chi sarei diventato, sapevo cosa lasciavo ma non sapevo cosa andavo incontro. Ma quella sera ho fatto un passo di fede, mi sono lanciato nelle braccia del Signore e semplicemente il Signore non ha fatto altro che migliorare il Martin che c'era prima. Non ha fatto altro che mettermi in mano quello che lui voleva che io fossi, mettermi in mano le armi che lui voleva che io avessi, in modo che così poteva affrontare la vita. Non sono stato mai un ragazzo ambizioso, il mio desiderio era crearmi una famiglia, anche se sono giovane, però come tutti i ragazzi al giorno d'oggi non si sa magari chi cercare, ci sono tante ragazze, insomma non sai, ti guardi intorno e dici chissà io troverò mai qualcuno, oppure il lavoro, chissà avrò mai un lavoro. Certo la mia vita ha avuto tante deviazioni, però grazie a Dio oggi posso dire che a 24 anni ho un bel lavoro e ringrazio il Signore, ho una famiglia perché sono sposato da un anno e ringrazio il Signore anche per questo e soprattutto lo ringrazio perché mi ha reso un suo figliolo, si usa di me e posso essere qui questa sera ad annunciarlo. Quindi il mio invito questa sera per chi ci sta ascoltando per le prime volte, ma anche per i credenti che sono qui, è un invito a non preoccuparci di ciò che abbiamo nelle mani perché se non conoscete la storia, penso che molti di voi la conoscano, il popolo di Israele quando era davanti al Mar Rosso non aveva la via di fuga l'unica via di fuga era incontro al nemico che gli andava addosso, armato di tutto punto, con carri, cavalli, spade, scudi, armature il popolo di Israele cosa aveva? Niente, aveva solamente un bastone, ma il Signore di quel bastone si è usato grandemente, ha aperto il Mar Rosso e hanno vinto grazie a un bastone. Quindi questa sera l'invito è tu che ci stai ascoltando per le prime volte, se ti senti afflitto, se sei abbattuto perché non hai le armi giuste secondo te il Signore con le armi le può trasformare e anche per i credenti che sono qui questa sera, se il Signore vi ha dato qualcosa se voi avete nelle mani qualcosa e il Signore ve lo ha dato, il Signore si userà di quello e vi porterà la vittoria. Dio ci benedica.